Da un disegno di Mauro Fornasero è nata l'idea a Salvatore Di Mauro di progettare l'opera d'arte che raffigura un minatore e che ha donato insieme alla sua famiglia al quartiere Santa Barbara. Proprio da qui, dove i minatori scendevano per andare a lavorare in miniera, è che, chi ha lavorato in questo settore, rimane per sempre legato a Santa Barbara, la protettrice dei minatori che si festeggerà domenica 4 dicembre. Sono abitante di questo villaggio da 60 anni e sono innamorato del mio quartiere. Ho pensato sempre di poter fare qualcosa che ricordasse la storia del villaggio. È un villaggio dei minatori, anche se oggi ce ne stanno pochi, però il villaggio, la tradizione del villaggio è quello dei minatori. E allora qualche anno fa mi è cominciato a venire questa idea di realizzare qualcosa che potrebbe avvicinarsi a questa idea. Poi ne ho parlato con il mio amico Mauro Fornasero, alla quale gli ho detto la mia idea. E sulla mia idea lui ci ha lavorato e abbiamo realizzato questo qua. Credo di aver fatto qualcosa che possa ricordare prima i minatori. Poi questo serve pure, secondo me, per altri scopi potrebbe servire. Per esempio, che ancora il latticianato a Caltenesetta c'è. Abbiamo molta voglia di farlo e con questo cercheremo in qualche modo di coinvolgere anche i giovani, perché l'articianato tutt'oggi potrebbe essere sempre una buona risorsa.